Siracusa Team Network Albatro in trasferta a Cassano con la voglia di fare punti. Seconda trasferta consecutiva per la Team Network Albatro che domani, fisco di inizio alle 8.30, rende visita al Cassano. Siracusani che partiranno questa sera dopo la rifinitura al Palapino Corso. Tutti a disposizione di Peppe Vinci e gli uomini del roster. Rientrano dopo la sosta ai box della scorsa settimana, Hamza Fredi e Nicolo Argentino. I Lombardi arrivano a questo match dopo due sconfitte consecutive con Pressano e Eppan. Per gli uomini di Kolec tre vittorie contro Bolzano, Trieste e Rubiera e sei sconfitte. Miglior realizzatore è il terzino montenegrino Nikocevic con 38 reti. Abbiamo la voglia di andare a vincere a Cassano, commenta Peppe Vinci. Questa squadra non merita la posizione in classifica. Il gioco espresso e il grande sacrificio dei ragazzi dicono decisamente altro. Sono sicuro che nel corso del campionato riusciremo a risalire la china. Al completo la nostra squadra può giocare contro chiunque. Rientro, come detto Argentino, che aumenta così il potenziale a sinistra dei blu-arancia. La squadra sta lavorando tanto e siamo sempre più determinati, commenta l'ala Siracusana. Nonostante gli infortuni non ci facciamo condizionare troppo. Sappiamo che il nostro potenziale ci consente di andare a Cassano per fare la nostra partita e avere come obiettivo la vittoria. I conti si faranno solo alla fine. A noi il compito di giocarci ogni partita al massimo facendo il nostro dovere. L'incontro del Palatacca sarà arbitrato da Ciro e Luciano Cardone. Sarà trasmesso in diretta streaming gratuita sul portale Eleven Sport.